Questa macchina poteva intimescare i tubi del gas, poteva bruciare un appartamento, poteva fare qualunque cosa. Ho fatto la macchina in fiamme con i pompieri che la stavano già spegnendo, perché poi l'hanno fatto qua dietro. Questa qui bruciava e è stata una cosa piuttosto impegnativa, perché insomma c'era c'era le finestre, c'era l'altra, bruciarono mezzo l'altra, non so, da quello che mi hanno detto, il giro fuoco arrivano in giro di 20 minuti insieme alla polizia, poi hanno provato insomma a fare vari giri, poi sono stati chiamati i giro del fuoco, dovevano entrare, vogliono entrare nella mia macchina, mi ha prendere il dipretto, poi sono stati chiamati perché mio padre semeria, altre tre macchine, quindi è stata una corsa, ho fatto il tempo a spegnere questi due, hanno bruciato questo e poi hanno bruciato queste due qua, poi visto l'alesido sono andati di sotto, probabilmente si muoveranno con un motorino, non credo a pieno, ci sono altre motivazioni, sennò quelle o la noia o sono dei piroponi o la sfidano, sono fatte in cinque zone di rumo alla stessa notte, quindi dalla Carbadella in cinque, nella stessa notte cinque strade diverse.